ciao e bentornati dal vostro loretec oggi siamo in compagnia di be quiet il mio nuovo acquisto un alimentatore da un formato molto particolare sfxl che cosa avrà di particolare questo alimentatore scopriamolo subito dopo l'unboxing acquistare hardware ci dà sempre un'emozione gritta attiva windows non vi fa dormire la notte ma niente paura vi viene in aiuto il vostro loretec attraverso keys fan potete acquistare chiavi di windows 10 windows 11 o pacchetti di office a prezzi veramente scontati vi faccio vedere un po di esempi office 2021 professional una chiave a meno di 30 euro a soli 27 e 75 inserendo il mio codice sconto lore 62 windows 10 professional a 8 euro e 78 windows 11 professional a 13 euro e 31 una volta scelta la vostra chiave aggiungete a carrello inserite il mio codice sconto lore 50 e andiamo a inserire la nostra chiave clicchiamo su attiva windows è attivo semplice pratico e veloce tutto in pochi prima di cominciare con l'unboxing volevo farvi vedere un attimo la confezione allora in alto a sinistra abbiamo la certificazione 80 plus gold molto importante per quanto riguarda i consumi le prestazioni le performance di questo alimentatore sicuramente il componente più importante per una build full cable management quindi possiamo scegliere quali cavi collegare per migliorare il flusso d'aria e non avere quell'ingombro di cavi fastidiosi possiamo poi aggiungerli al momento il brand be quiet che avete già visto su questo canale l'anteprima del nostro alimentatore qui abbiamo il formato sfx un formato più piccolo rispetto a quelli standard l ci sta indicare che lievemente più grande rispetto a quello che avete già visto sul canale il mio corsair qui sotto abbiamo la potenza massima erogata di 600 watt qui abbiamo un altro po di specifiche tutti i cavi che sono contenuti nella confezione ma a questo punto direi di andare all'unboxing per ogni unboxing che si rispetti ci muniamo delle nostre forbici e andiamo a tagliare il sigillo andiamo all'apertura e vediamo cosa è contenuta nella confezione manuale di istruzioni qua abbiamo la placca che non è altro che un adattatore per case essendo un mini tx viene installato da questa parte poi il resto poi viene inserito in un case dalle dimensioni standard cavo di alimentazione angolare per ridurre lo spazio formato suco abbiamo le viti per andare a fissare il nostro alimentatore altre viti cominciamo con i cavi di colorazione nera qua abbiamo i sata 8 pin 6 pin cosa abbiamo ancora altri cavi sata questo è un cavo ide magari per collegare dei lettori per collegare alcune periferiche qua abbiamo un altro 6 pin 8 pin e qui dovremmo avere il classico 24 pin andiamo al nostro pezzo forte eccolo qua guardate che bellezza come vedete molto molto piccolo quasi un po più grande di un palmo di una mano logo di quiet colorazione nera qui viene collegato il cavo tasto di accensione e spegnimento scritta di quiet certificazione un altro po' di specifiche qua riprende il modello sfx 600 watt e qui abbiamo tutte le connessioni per andare a collegare i nostri cavi nella parte destra qua abbiamo la scritta be quiet a rilievo a questo punto la domanda sorge spontanea perché acquistare un alimentatore con formato sfxl beh la risposta è semplice per tutte quelle soluzioni in cui abbiamo un case piccolo compatto in cui non è possibile installare un alimentatore standard prime impressioni a caldo qualità costruttiva devo dire ottima be quiet è sinonimo sicuramente di qualità mi piace la possibilità che sia modulare così possiamo scegliere quali cavi e quanti cavi andare a installare in un futuro magari fare upgrade della nostra build così da andare a inserire i cavi molto bella come idea colorazione completamente nera la certificazione 80 plus gold ci permette in alcuni casi magari sotto un determinato carico di non far partire prezzo un po' il tasto dolente si trova all'incirca sui 100 euro io l'ho acquistato su amazon mi raccomando fate attenzione alla certificazione che sia almeno 80 plus gold così da dormire sogni tranquilli vi ricordo che comunque il componente più importante per la nostra build non volete magari friggere tutte le altri componenti per lui ho in servo un video molto particolare andremo ad assemblare una build con un case che è veramente uno spettacolo avevo bisogno di lui per fare tutto adesso però voglio sapere la vostra conoscevate be quiet avete mai acquistato gli inventatori sfxl fatemelo sapere qui sotto nei commenti a questo punto non mi resta fra l'altro che salutarvi da be quiet allora teccherà tutto noi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao